Sbriciolata con ricotta, gocce di cioccolato e cannella profumata all'arancia, un dolce che mi riporta all'infanzia e alla cucina della nonna. In una ciotola raccogliete la farina zero e la semola rimacinata di grano duro. Aggiungete il burro freddo e tagliato a pezzetti. Impastate grossolanamente schiacciando i cubetti e amalgamandoli ma senza scaldare troppo il composto. Aggiungete lo zucchero e le uova. Continuate ad impastare grossolanamente e sempre senza scaldare l'impasto ottenendo delle grosse briciole. Aggiungete scorza d'arancia, un cucchiaino raso di lievito per dolci e mescolate ancora. Il composto si dovrà presentare così molto granuloso con pezzi più grandi e pezzi più piccoli. Prendete la ricotta di pecora asciutta e scolata almeno dal giorno prima. Aggiungete lo zucchero, la cannella e un'abbondante grattugiata di scorza di limone. Mescolate tutto aiutandovi con una frusta e unite le gocce di cioccolato. La nostra crema di ricotta è pronta e vi assicuro che è buonissima già così ma a noi serve per assemblare la nostra sbocciolata. Ricoprite una teglia con carta forno e versatevi poco più della metà delle briciole di frolla. Ricoprite tutto il fondo, pressate leggermente con le mani modellandolo e alzate un po' i bordi. Aggiungete la crema di ricotta, livellate ancora bene e ricoprite con le altre briciole. Così, in maniera uniforme, distribuitele su tutta la superficie evitando di lasciare spazi vuoti e facendone cadere anche un po' ai lati. L'operazione è abbastanza semplice. Per finire, se volete dare un tocco di profumo in più, aggiungete della frutta secca. Io ho scelto dei pinoli, ma potete utilizzare anche mandorle scagli o granella di nocciole. Dritto in forno per 35-40 minuti a 180 gradi in modalità statica e una volta ottenuta una doratura perfetta, ecco qui, la nostra sbriciolata è pronta. Lasciatela intiepidire un po' prima di sformarla e spostarla su un piatto e lasciatela riposare qualche ora prima di cospargerla di zucchero a velo e affettarla. Il riposo è importante per ottenere una torta compatta che non si disfia al taglio. Eccola qui, la nostra sbriciolata alla ricotta profumatissima con gocce di cioccolato e arancia è pronta per essere assaggiata. E voi che dite? La farete insieme a me? Andiamo dai! Buon appetito e buon divertimento! Che buona!